Rete dei cittadini e di compartecipi come Alba Mediterranea, madre della cambiare sociale, condividono un modello di società basato sulla orizzontalizzazione delle decisioni e delle responsabilità e su una più equa distribuzione della ricchezza monetaria e finanziaria. Per fare ciò useremo due strumenti, la democrazia diretta, che permette a chiunque di far valere le proprie convinzioni e ragioni a scelte, e soprattutto la cambiare sociale, vera rivoluzione copernicana del concetto monetario-finanziario-economico-sociale. Con la cambiare sociale, noi, come Copernico che confutò l'eliocentrismo, prevediamo aprioristicamente il rifiuto della banca centrale di emissione e antideticamente proponiamo il decentramento da una parte e contemporaneamente la riassunzione in sé del valore di ogni singolo individuo. Quindi non è più nessuna banca centrale, ma 60 milioni di cittadini italiani, banche emettitrici, banche davvero private. Cittadini i quali emettono il valore del proprio lavoro sotto la sorveglianza di un organo di controllo gestito da altri cittadini. Per chi, sconcertato o confuso, le nostre sconvolgenti affermazioni volesse capire meglio, vada sul sito di retedeicittadini.net o Facebook, o a proposito di cambiare sociale, su albamediterranea.com. Grazie.